Ciao a tutti, oggi una pillola al volo, non lavate mai attrezzi e strumenti intanto che cucinate. Perché? Quello che dovete fare è avere un foglio da qualche parte e ogni volta che vi tocca lavare qualcosa, quel qualcosa lo dovete comprare. Perché? Perché una delle motivazioni per cui lo stress sale è il continuo tira e molla, tira e molla, tira e molla tra il fuoco e il lavandino. Fuoco, lavandino, fuoco, lavandino. E in rotte così lavorate di più, non di meno. Cioè se io a un certo punto mentre sto cucinando mi manca una pinza, mi devo segnare che mi manca una pinza e mi devo comprare una pinza. Perché la prossima volta laverò due pinze tutte assieme invece che lavarne una prima e una a metà delle operazioni. È veramente stressante. Quindi prendetevelo così, ok? Segnatevi su un foglio di carta ciò che vi manca, compratelo e datevi proprio come obiettivo. Non devo lavare mentre cucino. Se devo lavare qualcosa vuol dire che quel qualcosa mi manca. Ciao.